Spettacolare, dai, e poi parliamo, spettacolare, Maninni! 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 E poi facciamo un tutorial per gli amici a casa. Ah, sì, dai. Allora, è molto semplice, in realtà. Maninni! Maninni! Cioè, Maninni è lo stame. Esatto. Maninni! Maninni! Ma cos'è, siciliano? No, in realtà è il mio cognome, che è Mininni, solo che volevo cambiare, appunto, una vocale, perché Mininni, immagina troppe i, troppe n. Eh, Mininni era carino, però. Eh, però era anche più complicato, secondo me. E hai cambiato? Ho cambiato la vocale, ho messo la di Alessio, Maninni. Perché secondo te hai cambiato tanto? Beh, secondo me, nella lettura sì, secondo me, perché se avessi letto Mininni sarebbe stato più complicato. E allora, signori e signori, qui a Domenica in questa puntata, a chiusura di questo pomeriggio meraviglioso di musica con tanti amici, chiude Maninni! Spettacolare! Andate bene! Ok. 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 E ci saranno le giornate bastardi, quelle che non ce la fai più Ma abbracciami, abbracciami che è normale Stringerti forte e spettacolare Ma abbracciami, abbracciami che è normale Stringerti forte e spettacolare